Il cliente potrà richiedere di partecipare alla Virtual Room tramite un suo delegato. L'azione è possibile mediante il pulsante in basso a destra relativo alle azioni sull'udienza. Per procedere bisognerà cliccare sul pulsante delega. A questo punto sarà necessario compilare la form con il nome, il cognome e il codice fiscale della persona che si vuole delegare. E cliccare su salva. Infine, bisogna confermare l'azione. L'azione è possibile quando si è in udienza e fino a un giorno prima della stessa. Il delegato dovrà a sua volta essere un utente registrato nella piattaforma concilia web. Per eliminare un delegato bisognerà cliccare su rimuovi delegato. Il delegato dovrà a sua volta essere un utente registrato.